Dai via la rincorsa di Guarin, attenzione, palla dentro, attenzione, Ranocchia, è gol, 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 Johnny, Johnny, e tre a due, sulla sirena, sulla sirena, sulla sirena. Il gol di Norocchia che vale le semifinali di Team Cup Il gol che vale le semifinali Ancora un minuto di recupero dice il quarto uomo E allora dai ragazzi Inter 3, Bologna 2 Stacca più alto di tutti C'è l'uscita scomposta di Agliardi che cade a terra E a quel punto non si può rialzare il pallonetto E adesso teniamo duro, mancano 20 secondi Dai ragazzi, palla lunga